Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova gameplay di GTA San Andreas finalmente abbiamo la scheda quindi ragazzi dico comunque per avere la scheda della cupier bisogna far raggiungere determinato il livello di finanziamento tipo al 30 40 per cento l'ho apprezzato il tuo input ma per favore L'importante cosa da ricordare con un plan come questo è che nulla può andare a scherzo Eh no, però con questo lato non ti può giocare L'aerobot eh ragazzi E ho di tagliare questa parte Questa parte non è chiusa Ed eccoci qua ragazzi abbiamo saltato questo miaggetto un po' noioso Quindi aggiungiamo l'aerobot Ecco qui l'aerobot Siamo sull'aereo Speriamo che non lagga adesso Prima laggava, lagghicchiava un pochettino Quindi ma come che lagga? Non lo so Ok, ma che non... Non si può giocare con questo lago pazzesco Vediamoci meglio quella zona con i bittaci per cantare L'amato Sì qui Ciao Stiamo Cazzo L'amato di non schiantarci Va Eppure ogni volta che registravo Le puntate di GTA San Andreas non laggava così Questa è la nostra scena Eppure ogni volta che non lo so È stato un po' noioso Eppure le patito Eppure le patito Per un po' noioso Per un po' noi Questa è un po' noioso Eppure le patito Per un po' noioso ecco il ragazzo se vedete ho dovuto tagliare di nuovo i video che poi ci metteva ore e ore per potermi pagare tutto all'aereo che si schianta esplosione cerchiamo di non schiantarci di non cadere nemmeno nell'acqua non lo so non lo so i frame vanno a scatti non lo so anche per via del mio computer che è proprio debolissimo non è che proprio adesso il mio computer vuole abbandonare ma speriamo di no non lo so lasciamo l'atterraggiamo mamma mia i frame i frame non lo so speriamo di di nelle prossime registrazioni delle camber di gta sant'andria speriamo di risolvere a più presto questo questo problema non lo so non lo so ok non lo so non lo so non lo so dobbiamo fare rumore dobbiamo farci scoprire non so può essere se facciamo rumore chissà adesso ci può essere una missione fallisce oppure diciamo un cocktail così uscitiamo le guardie silenziosamente un cocktail potrebbe tornacci utile per uscire le guardie mamma mia guarda i frame che va a scatti una cosa allucinante ah ah comunque prendiamo questo coltello comunque prendiamo questo coltello non ho quindi così l'unico ... ... ... ... Io, tu f***ing wiff... E finalmente some action around here Nobite puncher CJ Oh no I mean, I don't... ...zac! ...Siamo a questa atta esplosiva. ...man mano c'è quei frame... ...allucinandi che vanno a scari. dai, premo un giro cioè joy 1 sarebbe triangolo se non ho la configurazione joy pad se nascondiamoci qui, non ci facciamo vedere non so, prendiamo il nome uguale le spalle ah 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 e e Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Alla prossima, ragazzi, con un altro video.